Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce dell'istituzione, ho il piacere di ospitare per la prima volta il segretario generale del sindacato CISL Belluno Treviso Massimiliano Paglini, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi per l'invito e grazie ai telespettatori per la disponibilità ad ascoltare. Scopriamo le carte, siamo di capire con chi stiamo parlando, nel sindacato da quanto tempo è prima la carica ricoperta? Sono nel sindacato da sempre, praticamente da quando ho iniziato a lavorare nel mondo bancario perché sono dipendente di banca, ho svolto per due anni, sono stato segretario organizzativo della CISL Belluno Treviso, prima ero segretario dei bancari della CISL e responsabile del gruppo Veneto Banca, spede la CISL. Lei sa che come responsabile di una struttura che abbraccia Belluno Treviso deve bilanciare equamente? Perché noi ci sentiamo sempre un po' dimenticati, abbiamo sempre questo sindrome di abbandono. Io ci intengo molto perché stiamo a montagna, quindi credo che oggi più che mai servono politiche integrate, quindi un'attenzione particolare a Belluno, alle problematiche del territorio bellunese, lo vogliamo dedicare, abbiamo anche raffrontato la squadra nel cambio di segreteria proprio in questo senso. Io ho sempre fatto l'intervista con il segretario aggiunto, che non c'è più questa figura per più. No, il segretario generale aggiunto non c'è più, ma abbiamo raffrontato la squadra, dicevo, da 5 che erano prima in segreteria, tra segreteria e staff, adesso siamo in 6, 3 di provenienza bellunese e tra di provenienza trevigiana, con competenze elevate sia da una parte che dall'altra. Ci colgo l'occasione per ringraziare Rolfare per tutta la disponibilità che ha dimostrato. È rimasto con noi Rudy comunque. Non dubitavo che rimanesse. Una battuta riguardo a questo periodo politico che sta vivendo il nostro Paese, tutti lo leggono come finalmente arriva l'uomo forte, gli italiani sono sempre la ricerca di questo uomo forte. Il vostro è un giudizio totalmente positivo o con qualche innalzamento di sopracciglia? No, io più che l'uomo forte penso sia l'uomo competente. Credo che Draghi abbia dimostrato di essere un uomo dalle grandi capacità, sia manageriali che politiche. Ne ha dato prova quando è stato Presidente della BCE per 8 anni. Credo che le sue competenze al servizio del Paese in una fase così delicata siano veramente utili al Paese e quindi anche agli impegni che dobbiamo affrontare, recovery fund e vaccinazioni. Però lui è un tecnico e i sindacati non andrebbero meglio a parlare con i politici che non con i tecnici? A parte che se poi andiamo a vedere la storia degli ultimi 15-20 anni della politica italiana ci sono stati più governi tecnici che governi politici. Però di solito i governi sono sempre eletti da una maggioranza, larga o piccola che sia. Io quando ho circolato il nome di Draghi i primi giorni invocavo un governo di responsabilità nazionale. I passaggi cruciali che dobbiamo affrontare in questa fase richiedono l'impegno di tutti e il coinvolgimento di tutti. Dopodiché i governi sono sempre politici perché c'è una maggioranza politica parlamentare che li solegge e che li vota. Poi è vero che in queste fasi con i governi tecnici abbiamo avuto competenze particolari. C'è stata la vicenda Monti, il governo Monti che poi ha generato una serie di difficoltà, di letture secondo me anche sbagliate, ma ricordiamoci la fase particolare che viveva il paese con lo spread a 500 punti, che se non ci fossero stati interventi sulla finanza pubblica draconiani il paese sarebbe andato a picco. La problematica dei governi tecnici è che possono mettere da parte quelle che sono delle istanze legittime per molti, non per tutti, del mondo sindacale. C'è questo pericolo? Perché di fronte alle necessità bisogna sacrificare qualcosa o qualcuno. Dobbiamo capirci su quali sono le istanze. Per noi le istanze, noi per CISL, sindacato CISL, per noi le istanze sono lo sviluppo, la crescita del paese, dell'economia e lo sviluppo occupazionale. Se ci sarà da parte del nuovo Presidente del Consiglio una scelta, delle scelte in questa direzione, noi praudiremo. Abbiamo anche detto, la nostra segretaria generale Anna Maria Furnana stamattina dichiara meno bonus e più sviluppo e più occupazione e più lavoro. Quindi credo che se Draghi sarà capace di fare questo avrà il nostro sostegno. Dopodiché non devono pagare solo i deboli, i lavoratori, i pensionati, la ristrutturazione e la ripartenza del paese. Qui dovrà essere Draghi capace di chiamare a raccolta tutte le migliori forze dell'economia della società per rilanciare il paese e non far pagare sempre i soldi. Sento una curiosità, tutto cambia, cambiano anche i lavoratori, le famose tutte blu diventano sempre meno, diventano sempre più i colletti, quindi il lavoro anche a distanza. Sono problematiche che il sindacato è già pronto ad affrontare, anche perché per il rinnovo dei contratti di lavoro questo peserà mica da poco. Sì, noi abbiamo stimato, ma non noi, solo gli istituti di ricerca, che quasi tutti i lavoratori che oggi sono in smart working, si parla di 6 milioni di lavoratori, rimarranno in smart working. Quindi sta cambiando il mondo del lavoro e impone al sindacato la capacità di adeguarsi ai tempi che cambiano, quindi anche hanno la necessità di essere capaci di rappresentare questo mondo del lavoro che cambia e per questo ci stiamo interrogando. Lo abbiamo fatto sia sul tema dello smart working, come Belluno Treviso, ma la CIS del Veneto ha lanciato un progetto che si chiama ITS in Veneto per i prossimi 25 anni di attività sindacale e di investimento su un progetto strategico per rilanciare il sindacato, perché storicamente qualsiasi soggetto che viene organizzato dalle persone, dagli uomini, dalle donne ha dei cicli vitali e il sindacato ha bisogno di rilanciarsi. Su questo noi ci stiamo interrogando e stiamo lavorando. Di rigenerarsi, di interpretare. Soprattutto rigenerarsi, essere capaci di interpretare la società, il mondo del lavoro che cambia, la società che cambia, l'organizzazione anche della società che cambia. Mobilità, trasporti, lo stesso lavoro, la stessa capacità di essere attenti alle esigenze dei più deboli. Mi pare che vi adeguate partendo dal nome ITS in Veneto. Ma è ITS all'inglese? All'inglese, sì. Bisogna farsi una ragione di questo inglese imperante. Naturalmente c'è un programma che viene portato avanti dal sindacato delle due province, ma c'è anche un programma del Presidente, generalmente uno si presenta e io vorrei fare questo. Lei che cosa vorrebbe fare? Io vorrei riuscire a mettere assieme tutte le forze migliori, in questo caso di Belluno, e questo abbiamo già chiesto al Presidente della Camera di Commercio, lo stiamo chiedendo alla politica, perché si possa progettare e programmare assieme il futuro, i prossimi 30 anni della provincia di Belluno, in un'ottica di sviluppo, di crescita, di uscita dall'isolamento. Perché secondo noi la provincia di Belluno si è infilata in un isolamento che rischia di essere deleterio. Un isolamento che è stato tradotto in modo pratico dagli abitanti stessi in spopolamento. I dati statistici non è una traduzione degli abitanti, sono dati statistici. Nel senso che capendo questo isolamento se ne vanno? Certo, infatti i giovani se ne stanno andando, abbiamo 70 mila le nostre stime di abitanti della provincia di Belluno che sono iscritti all'albo dei residenti all'estero, su 202 mila residenti effettivi. Questo significa che la provincia di Belluno, e lo dicono gli stessi ricercatori, la settimana scorsa ho letto qualcosa, la proiezione a 30 anni è che si perderanno altri 50 mila abitanti. Quindi significa che se non si fanno delle scelte adesso, pro futuro, tra 30 anni sarà irrimediabile la situazione. Ma è un problema di servizi? È un problema di cultura? Che i giovani sono attratti dalla confusione, dalle esperienze? O che cos'è? Perché poi, parlare di spopolamento, le politiche da mettere in campo sono difficili. È un problema di interconnessione con le reti di mobilità economiche di sviluppo europee, nazionali ed europee. Quindi c'è un problema di mancata connessione, non solo digitale, perché c'è anche tutto quel tema lì, ma anche fisiche, le reti fisiche, mobilità per esempio. Ecco, senta, mi sembra che mi sia tracciato la strada per arrivare a questa domanda. È ritornato in auge il tema dell'autostrada. Anche questo è un collegamento che dovrebbe essere fatto indipendentemente da quelli che sono i temuti impatti ambientali. Noi siamo partiti da un'analisi già qualche anno fa rispetto a questo tema e quello che abbiamo oggi elaborato è che serve un'infrastruttura. Quale? Non è compito nostro, non siamo i tecnici noi. Noi stiamo chiedendo che si riapra una discussione con la politica, con le associazioni imprenditoriali, con tutti i soggetti del territorio per una scelta. Dobbiamo fare una scelta. La Presidente Berton di Confindustria, l'altro ieri, diceva che rischiamo l'isolamento perché nessuno si muove, nessuno fa delle scelte. Noi non vogliamo entrare nella discussione, non perché vogliamo essere parte della discussione, ma perché è la politica che deve fare delle proposte. Ho letto che l'architetto Mainardi, un tempo sottenitore dell'autostrada, oggi invece dice che è preferibile una via ferroviaria. Apriamo la discussione. Noi avevamo discusso con l'ingegner Campeol che aveva elaborato un progetto dell'autostrada, ma lui vedeva un progetto intermodale, quindi con dentro la ferrovia, l'autostrada, il trasporto su gomma e tutta la parte digitale dei cavi che dovevano passare dentro un'unica struttura. Quindi una discussione la dovevamo fare, se vogliamo uscire dall'isolamento. Comunque per voi questo è un tema centrale. È un tema centrale perché lo stesso ingegner Campeol a suo tempo ci spiegò tecnicamente che dove ci sono le vie di comunicazione che portano verso il nord c'è lo sviluppo e non c'è l'abbandono del territorio. Senta, qualcuno suggerisce che per frenare lo spopolamento una cosa semplice da fare è che chi viene a lavorare in provincia di Belluno prenda più soldi. Se fa qualsiasi lavoro può essere un'idea, perché altrimenti uno dice con tutte le controindicazioni che ho, i costi maggiori che ho... No, perché lo stesso discorso lo potremmo fare anche a Sud Italia, che richiama le gabbie salariali. Noi crediamo che lo sviluppo del paese debba andare in armonia con tutti i territori, soprattutto con quelli periferici. Belluno è strategica non solo perché ha grosse imprese sul territorio che sono multinazionali, riconosciuti in tutto il pianeta, ma anche perché è un territorio dove il turismo ha una presenza molto forte e quindi serve integrarlo dentro lo sviluppo complessivo del paese, del Veneto e del paese. Pensare a un isolamento addirittura che migliori le condizioni, perché così attiriamo le persone, perché gli diamo di più, rischiamo poi di creare scompensi con altri territori. Sì, il problema è che le aziende cominciano ad avere difficoltà a trovare manodopera. Ma infatti questo è il tema, quindi qual è la soluzione? Sicuramente bisogna trovare delle forme di incentivazione perché i lavoratori rimangano, i giovani rimangano sul territorio. Abbiamo un abbandono del territorio da parte di giovani, laureati, studenti, neodiplomati che è enorme, ma per fare questo servono servizi, servono infrastrutture, servono anche condizioni di favore, ma questa è la politica locale che deve dare una risposta. Per esempio l'acquisto di abitazioni potrebbe essere incentivata, come CISER abbiamo promosso il Fondo Welfare di Comunità, il Fondo Welfare Dolomiti, che proprio va in quella direzione, sostenere i giovani. Un progetto è quello proprio di favorire il mantenimento dei giovani attraverso magari l'acquisto di abitazioni o l'affitto di abitazioni. La situazione pandemica ha creato grandi tensioni in molti settori lavorativi, diciamo che fortunatamente Belluno tutto sommato riesce a rispondere abbastanza bene, fatta eccezione per le piccole e medie imprese in un settore importante come quello degli occhiali, abbiamo la crisi dell'ACC perdurante e sembra anche aggravantesi, e poi la Safilo, battute su questi tre temi. La crisi dell'occhialeria, c'è anche un po' la crisi della moda, quindi meno consumi e meno gente che si muove, quindi una minore richiesta, una minora domanda di prodotti. Sulla CC purtroppo c'è una questione legata alle politiche europee, l'Europa… Di aiuti di Stato, no? Di aiuti di Stato, sì, con l'Europa che chiede un intervento privato per poter autorizzare gli aiuti di Stato. L'ho vissuto, tra l'altro io come ex Veneto Banca, c'è stata tutta quella questione legata agli aiuti di Stato, l'Europa che chiedeva un intervento privato. Io credo che il territorio debba dare una risposta su questo. Dopodiché c'è una politica che spesso e volentieri è scollata. Io vedo, come dire, una grande presenza sul territorio quando ci sono le necessità territoriali, ma uno scollamento con la politica centrale. Forse un coordinamento maggiore in questo senso aiuterebbe anche la soluzione della crisi di ACC. Sì, poi è la politica di livello nazionale che è deficitaria, mi pare. Eh beh sì, ma la cosa l'abbiamo vista anche con l'aeroporto di Treviù in questi giorni. Ok, e per quanto riguarda la Saffilo, mi pare che quello che stanno tentando sono state anche piuttosto ardite. È stata fatta la proposta di dare il permesso a delle persone di andare a lavorare in un'altra azienda per due mesi sperando una specie di apprendistata. Sì, è un accordo innovativo in questo senso, quindi la possibilità ai lavoratori della Saffilo di fare una prova di un paio di mesi in un'altra azienda nel caso in cui ci sia reciproca soddisfazione la chiusura del rapporto con la Saffilo. è innovativo e potrebbe essere anche uno strumento da utilizzare anche in altre crisi aziendali. Mi pare che in questi giorni ci sono le assemblee di approvazione dell'accordo e mi pare che comunque il sentiment sia positivo da parte di lavoratori. La trovo un'idea geniale, a me è piaciuta, poi spero che abbia anche fortuna come applicazione. La pandemia ha messo in luce una difficoltà che il nostro territorio ha, questa non è un'accusa naturalmente all'Ulss perché bisogna lavorare con quello che si ha, con quello che si può soprattutto, della rete territoriale mai tanto importante in provincia di Belluno perché è una delle province più grandi d'Italia e anche molto complessa da un punto di vista orografico. È un tema che vi interessa che ci state lavorando? È un tema strategico per garantire quei servizi che consentano di evitare lo spopolamento, oltre al tema proprio dell'uguaglianza, della parità di accesso ai servizi da parte di tutta la popolazione, anziano o giovane che sia. Noi crediamo che sia fondamentale potenziare la rete territoriale di assistenza sanitaria, soprattutto in realtà, come diceva lei, complesse e particolari come quella montana. Ma questo vale anche per tutto il resto del Veneto, ma non è solo una questione bellunese. C'è un problema di carenza della rete sanitaria territoriale, di medici di base, della medicina preventiva, tutto quello che servirebbe a evitare lo spostamento delle persone verso le strutture, perché oggi abbiamo anche poche strutture, plessi ospedalieri per tutta una serie di ragioni legate al costo della sanità. È anche vero, ma non tocco l'argomento, perché se non so che è materia complicata, c'è un tema di risorse da utilizzare. C'è un recovery fund, questo sì, che deve dare delle indicazioni. Sentendo quello che dice la Presidente Bertone, ma leggendo anche le carte dell'ultima bozza di lavoro dell'recovery fund, diciamo che su Belluno c'era poca progettualità da parte della politica nazionale. Quindi speriamo che la nuova compagine di governo dia indicazioni un po' più precise rispetto agli investimenti da fare. Chiudiamo, se può farlo in 30 secondi, anche se so che l'argomento le interessa molto. Voi lancerete tra poco, tra qualche giorno, un'iniziativa di webinar, che sarebbe questo modo terribile, di colloquiare a distanza. L'argomento qual è? L'argomento è la ricerca che abbiamo elaborato qualche mese fa con il coordinamento donne della CIS di Belluno Treviso, la responsabile Alessia Salvador, una nostra cittadina bellunese, sul gap salariale e la richiesta di istituire in tutti i comuni le commissioni di pari opportunità. Lo faremo con tutti i sindaci della provincia di Belluno fra qualche settimana. Perfetto, è un argomento sicuramente interessante. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Siamo stati con Massimiliano Paglini, che è il segretario generale della CIS per quanto riguarda le province di Treviso e di Belluno. Faccio i migliori auguri di buon lavoro. Grazie. Ci sarà tanto da fare sicuramente. Grazie a voi per averci seguito. Buona serata. Arrivederci.